La Presidenza del Consiglio insieme alla Sesta Commissione ha cercato di accendere un riflettore su questa tematica perché è una tematica dei nostri giorni, i bambini sono il nostro futuro ed è a loro che dobbiamo pensare in questo momento. Purtroppo in questi anni sono stati fatti troppi interventi a spot che non hanno garantito a questi bambini un'infanzia degna di essere vissuta. Ci sono troppi minori a rischio, il rapporto del garante ci ha dato dati allarmanti come i dati che ci ha dato il procuratore di Luxemburg sulla evasione scolastica. Purtroppo abbiamo una problematica seria e la politica non può non ascoltare e non essere attenta a questi problemi. Noi in particolare che ci occupiamo e siamo vicini ai territori sappiamo bene qual è la situazione dei nostri territori, dei nostri ambiti e quindi dobbiamo riprendere in mano la situazione per garantire a questi bambini un futuro davvero migliore.